Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimatingCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene, grazie, grazie, ci siamo tornati con noi Lui mi ha pensato da che cazzo se ride Comunque, ovvero, finalmente abbiamo trovato una Premier Sì, però c'è stata Neviga, neviga Cioè, non ho mai visto una neve su... Oggi neviga Io non ci vedo un cazzo, ma perché vuoi il pallone bianco e neviga Cosa? Percocane Ce l'ha fatta apposta, ha messo le maglie e maglie bianche Il pallone bianco Vedete un bianco, caneta questo, questo che gioco Oddio, oddio, gozze, gozze, incredibile, gozze Ancora gozze Che cazzo, ma perché ne ha tirato Vabbè, no, c'è già il sito rotto, raga, cioè Ma guarda, te, te mi fai punti qua, c'è sempre capitano ste cose Che dici? Fai, che passa No, non ti devi più lontano, lo so No, ma chi Oddio, io non ho visto quello là che stava là Un altro tasto, tu Te fai R1, io faccio con R2 No, va più lunga, tu gli dà, vaffanculo Ancora, ancora Non so perché vedo questo davanti Levati Va bene così Cene mobile incredibile per te a me sai insomma anche chi è di testa di piede di cazzo testa di cazzo soprattutto ma perchè il pallone è bianco il pallone è bianco perchè si è voluto mettere in forza bianco ma noi stiamo in casa quindi lo stadio è il nostro vorrei capire perchè cazzo significa bello lo guarda non tirato più guarda che non ti ripiavono non è nato americcia che va fu un cuore so fosse immobile e da ragazzo anche se lo vuoi molly piscic bucicolo guarda 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 oddio amore per questo punto donna liria maniera c'è la nieva uomini un po' scorso che cosa vuoi fare posto orto non c'è segreto l'area dal caso vabbè un po' vabbè la sua che cazzo c'è una stessa perfetta non mai amica ancora 600 ma sta stessa la parola io non sto facendo scorsi in mare per il video più che altro rai a me non si vede 90 minuti d'applausi applausi bello sta cittadino che tuttore salva cazzatissima fa un po' palle chieman giudici perchè non ce l'ho perchè quella vecchia non si vede in cazzo dai ma che cazzo è sta cosa cadroia porca si vede in cazzo io me lo so poco ragazzi capitale io non so come hanno fatti i gol praticamente perchè tanto c'è la parola come se è allungato come se è allungato manco gli incredibili si sa perchè basta dai io ma che cazzo è ma che vuol dire ma che sono ste cose se è se è alzato come se avesse sultato non è se fattu 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 tutti così affatti strano non mi non ho fatto riuscire a farlo non dalla non sai la cosa quando la tua gente è un altro caso di cosa è possibile non è possibile ma chi è compramo si può porco cario ma che è un uomo giudice per poterlo schi dai ai ma perché no c'è fai di vendere ma nella pallone di un'escazione il comando po' bravo che cazzo ma dai ma manca il fallo su porcogane ma vaffanculo vabbè niente domani sarà tutto per tutto cioè se non vinciamo stiamo un'altra volta retrocessi ma stai tranquilli perché fino a chi moriamo in prima non vi lasciamo tanto ci dobbiamo arrivare poi porca puttana sembrava che avevamo bloccato una certa stavamo sempre a vincere poi comunque quei due vittorie cioè era fatta là che ci ha contato vabbè noi ci becchiamo domani nel prossimo video cazzo sempre i vecchi trapani ciao